Da un lato il sindaco Abbate e dall'altro gli assessori, che è strano a dirlo, sembrano contraddire le misure anti-covid varate dallo stesso primo cittadino. Da un lato infatti la sospensione, indetta proprio dal sindaco Abbate, a favore delle misure anti-covid di tutte le iniziative culturali aventi per oggetto la presentazione di libri. Dall'altro lato un'iniziativa che invece oggi sarebbe avvenuta ugualmente in piazza Matteotti, nell'auditorium Pietro Floridia, un evento per presentare il libro Volevamo conquistare il cielo. A bloccarla in extremi si è stato lo stesso sindaco Abbate, che a quanto pare ha appreso solamente nelle ultime ore di quanto l'assessorato alla cultura stava predisponendo, contrariamente alle direttive anti-covid. E quindi scontro tra il primo cittadino e il suo assessore e a denunciare il tutto era stata proprio l'associazione Confronto di Modica, che si è vista in prima persona annullare un evento già in programma per i prossimi giorni. E così sembra che l'assessorato alla cultura, retto dalla Monisteri, sconfessi di fatto quanto è disposto dal primo cittadino, almeno secondo quanto denuncia l'associazione Confronto di Modica, una mano che non vede il lavoro dell'altra e che spesso si muove contro. Ma quello che l'associazione Confronto proprio non aveva digerito è che a seguito della decisione del sindaco ha annullato l'iniziativa promossa, insieme a Caffè Letterario Salvatore Quasimodo, per la presentazione del libro del giornalista e scrittore Michele Giardina, Italia devastata da un forte vento di scirocco, già in calendario per sabato il 31 ottobre nei locali del giardino della Contea. Due pesi e due misure che l'associazione Confronto non può accettare. Si tratta, secondo i rappresentanti, di un comportamento da parte della Monisteri contraddittorio e lesivo, comportamento però notato dal sindaco che ha annullato anche l'evento in programma per oggi. Il problema, sempre secondo Confronto, va ben oltre la presentazione di un libro perché si finisce per minare la credibilità dei provvedimenti adottati in un periodo di grande confusione e non indifferente preoccupazione per il continuo diffondersi del coronavirus. L'associazione Confronto confidava nel pronto intervento della prefettura, ma a pensarci prima, come detto, è stato proprio il sindaco Abate che, contrariamente a quanto disposto dalla Monisteri, ha revocato la presentazione del libro prevista per pomeriggio.